www.maurizopoli.it, questa è la settimana della Global Money Week 2023, gestisci il tuo denaro e semina il tuo futuro, plan your money and plan your future, come Maurizio Poli e Giuseppe Biondelli, educatori e consulenti finanziari, anche quest'anno abbiamo aderito all'iniziativa del Comitato per l'Educazione Finanziaria. Ci sostengono e ci aiutano in questo percorso del settimanale Mondo Barano, nella rubrica Risparmi e Finanza, dove venerdì 26 usciremo in tutte le edicole su questa tematica del gestisci il tuo denaro e pianifica il tuo futuro, e no, semina il tuo futuro, importante, semina il tuo futuro, e lo stesso venerdì, sempre nel broadcast televisivo Cremona 1, canale 19, il programma si chiama Ore 12, saremmo presenti per parlare di queste tematiche, quindi seguiteci, questo venerdì 26 su Cremona 1 e in edicola con Mondo Padano. Alla prossima e buona educazione finanziaria a tutti!